Continua la crisi in casa, Sandro Abate. L'Ital Service Pesaro strappa tre punti d'oro in casa contro l'ex Fausto Scarpitti. Al termine della gara, il tabellone del Palafiera dice 3-1 per la truppa di Fulvio Colini. Per i bianco-rossi, doppietta di Borruto e rete di onore di Bisec, il gol degli Irpini. E' la quarta sconfitta di fila per la compagine Irpina che non riesce a svoltare la zona calda, anzi caldissima, della classifica ora in realtà. Mercoledì sera si torna in campo contro il viturano Dragstore Manfredonia. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 0-0 grazie alle parate di Tiago Perez recuperato in extremis da Scarpitti. Nella ripresa, la Sandro Abate rimane negli spogliatoi. Borruto fa doppietta ad accorciare le distanze ai Bisec dopo lo schieramento di Uguerani come portiere di movimento. Ma a chiuderla è Onorio che mette un'ipoteca sulla vittoria. A termine della gara, il tecnico dei Verdi Azzurri ha fatto il punto cercando di salvare il salvabile, ma oggi c'è ben poco da cui ripartire. E' ancora una volta grandissima prestazione dei ragazzi perché andare a pressare un Pesaro con tanta qualità, con un roster un po' più corto, quindi con giocatori che hanno fatto un minutaggio altissimo non era facile. E con il portiere di movimento abbiamo accorciato e probabilmente il 2-2 poteva anche arrivare in quell'ultima occasione. Quindi dispiace per il risultato, però usciamo da questa gara con molte certezze in più e questo per me è fondamentale.